Ci siamo, adesso la partita da Go Perpignan definirà il nostro passaggio del turno, per noi è molto importante perché il nostro obiettivo è andare avanti in Coppa. Noi ci crediamo tantissimo, noi abbiamo investito in questi anni nello sport, abbiamo investito nella Benetton, per cui in questa settimana, che anche per noi è molto importante, visto l'approssimarsi di Vin Italy, che è il massimo evento, noi veramente contiamo su di voi. Adesso tocca a voi. Sì, ovviamente la partita da Go Perpignan sarà importantissima, la settimana è stata, penso, una buona settimana, abbiamo lavorato bene, accurando i minimi dettagli per poter arrivare pronti a questa sfida. La vittoria dell'Italia a Cardiff può essere un'iniezione di fiducia? Beh, certo, la partita a Cardiff è stata incredibile, trovo che ovviamente l'entusiasmo che ha riportato in noi, anche qua a Treviso, sia stato importante e ovviamente la confidenza che ci ha dato è stata qualcosa che ci portiamo anche qua a Treviso. E quindi per questa partita vogliamo affrontarla alla stessa identica maniera e vogliamo portare a casa il risultato, come è successo anche a Cardiff. A te. Grazie. E a questo punto, in bocca al lupo. Crevi. Grazie. 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 Grazie.